Prosegue come previsto il decorso post-operatorio di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo la Sala Stampa Vaticana, il Santo Padre ha riposato bene durante la notte. Bergoglio è stato sottoposto anche a controlli ematochimici che sono risultati nella norma ed ha regolarmente sostenuto la seduta del programma di fisioterapia respiratoria. La mattina è stata dedicata alle attività lavorative. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'Eucaristia.